mattinata di terrore affidene un uomo ha fatto il ruler, Claudio Campiti, che a 57 anni, è stato arrestato e condotto in caserma per essere interrogato. si ammazza tutti. io ho sentito questa frase, racconta una residente con il terrore ancora negli occhi. abbiamo fatto diverse denunce contro di lui, per minacce, ai carabinieri e alla procura di rieti. il consorzio in questione, denominato valverde rocca sinibalda, si trova infatti sul lago del turano, in provincia di rieti. campiti si è presentato alla riunione di domenica mattina sulla sua fordeca verde, ancora parcheggiata di fronte al bar pizzeria chiamata il posto giusto, scelto come ogni anno per l'incontro tra i consorziati. in tasca aveva una pistola automatica illegalmente detenuta, con la quale ha sparato contro il tavolo sul quale sedevano la presidente e la segretaria del consorzio, morte sul colpo insieme a un'altra donna, insieme con altri progetti. grazie a tutti.